Innanzitutto ringrazio tutti quanti mi hanno sostenuto. Cosa ci sarà nel futuro ancora non lo sapremo, anche perché le condizioni non è che sono tra le migliori in questo momento, però vogliamo essere positivi. Noi come agricoltori abbiamo un ruolo fondamentale in questa ripresa, ma soprattutto siamo chiamati a dare delle risposte ai cittadini, sia per quanto riguarda il cibo sano, sia per quanto riguarda l'ambiente. Comunque sia siamo custodi dell'ambiente e sono gli agricoltori che mantengono il territorio, questo bene comune che è il territorio, sono gli agricoltori che lo sostengono e lo mantengono. Quindi quello che noi chiediamo alle istituzioni è un impegno maggiore per far sì che questo sia sempre più bello, sia un punto di riferimento dal punto di vista turistico per tutta la regione ed inoltre un impegno ancora più importante per le zone interne, perché sono zone bellissime dal punto di vista turistico ma hanno bisogno di tanto e gli agricoltori vanno sostenuti.